Cazzo vai! Volevo solo portarvi fuori per chiedere a te e ai tuoi amici, gentilmente, di lasciare il locale. Oh, ce ne andremo, dopo averti ammazzato, stronzo. Certo. Ah, prima di iniziare, sei assicurato? Cosa? Hai un'assicurazione medica, con una buona copertura, anche odontogliatrica. Oh, a me non servirà, cazzo. Ok, certo. Ehi, frecchi. Sì. C'è un ospedale qui vicino. Scusa, che cazzo se ne frega? Chiudi quella cazzo di bocca e bante, distrutta. C'è un ospedale qui, è lontano, vicino, io... C'è circa 25 minuti, dipende dal traffico, se è l'ora di buona. Chiudi quella cazzo di fuoco. Ehi, come ti chiami? Del, Del, non sei tenuto a farlo, ecco, non è bello perdere davanti agli amici che ti guardano. Guardano chi? Allora non sono qui per stare a guardare. Beh, non mi sembra molto giusto. La vita non è giusta. No, merda. Mi è partita una sverla, scusa. Che cazzo? Diciamo che è fatta. Che cazzo significa fatta? È come una vittoria, diciamo. Cioè, ho vinto io. È un pareggio. È una vittoria condivisa, sì. Che cazzo? È un pareggio. Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Grazie a tutti